Sono passati 78 anni dalla liberazione di Auschwitz e la comunità alessandrina, come tante altre, non vuole dimenticare quel giorno nel quale i cararmati russi entrarono nel campo di sterminio e furono i primi testimoni di una follia che portò lo scrittore Primo Levi, anche lui deportato ad Auschwitz, a chiedersi se gli autori di tutto quello erano uomini. Per non dimenticare la strage organizzata dal regime nazifascista che uccise milioni di persone, non solo ebrei ma anche comunisti, omosessuali e zingari, in generale insomma oppositori del regime, una giornata dunque dedicata alle celebrazioni. Nel pomeriggio di oggi l'apertura straordinaria della sinagoga di via Milano, poi alla biblioteca civica Calvo riflessioni musicali sulla Shoah e letture, mentre in mattinata in piazzetta della Lega le delegazioni degli studenti delle scuole cittadine insieme ai rappresentanti istituzionali avevano deposto una corona dall'oro in ricordo delle vittime. Poi in piazza Mafalda di Savoia, la cerimonia per commemorare le vittime femminili della deportazione, tra cui appunto anche la principessa Mafalda di Savoia, morta nel lager di Buchenwald il 28 agosto del 44. Allo stadio Muccagatta la deposizione di un mazzo di fiori in ricordo di Arpad Weiss, commissario tecnico dell'Alessandria Calcio del 1912, morto ad Auschwitz nel gennaio del 44. In prefettura la cerimonia di consegne delle medaglie concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini deportati ed internati nel lager nazisti destinati al lavoro, ma anche ai familiari deceduti.